E' arrivato l'avvento di quattro settimane nel suo tempo. Sono giorni di attesa silenziosa per accogliere una venuta preziosa, quella di un mio bambino, che nasce nel mio cuoricino. Una bella corona di sempreverdi viene fatta per scandire i miei tempi. Da quattro candele è sormontata per accenderne una a settimana. Prima candela del profeta, che annuncia la venuta del Messia. Seconda candela della salvezza di Betlemme. Terza candela, la gioia del pastore. Quarta candela, gli angeli che glorificano Dio. Quando verrà acceso ogni lumicino, è arrivato il momento di festeggiare Gesù bambino. Buon avvento! Grazie a tutti! Grazie a tutti!